Intanto continuavo a leggere le domande e ce ne sono alcune che mi chiedono il giocatore più forte con cui tu abbia mai giocato e ce ne sono alcuni che invece dicono di indicare un tuo 4-3-3 con i giocatori più forti con cui tu abbia giocato. Allora, vediamo se riesco velocemente, anche se farei dei torti perché comunque ho giocato con tanti grandi giocatori, per esempio Serezo secondo me è stato uno dei più grandi giocatori centrocampisti con cui ho giocato e con cui io mi sono allenato e con cui ho visto da vicino. Cioè Serezo era giocatore universale, quindi lo considero tra i più grandi in quel ruolo. Stesso Tardelli in Italia, lui e Tardelli li paragono un pochino per caratteristiche, grande golsa, grande tecnica, grande disponibilità verso i compagni e sanno fare tutto, sapevano fare tutto, sia gol che andare a difendere. Quindi io dico Serezo come giocatore più forte, chiaramente non Totti perché Totti è fuori e fuori da questa classifica.